È partito tutto due anni fa, quando a mio fratello è stato diagnosticato un mieloma e quindi è stato immobilizzato a letto per quasi due mesi e non ci avevano dato speranze di ricominciare a camminare, neanche camminare, quindi era completamente dipendente in tutto. Lui come un mantra per questi due mesi continuava a dire, tanto io ricomincio a correre, tanto io ricomincio a correre. Sono riuscita a trovare un professore meraviglioso di Torino che con una tecnica completamente innovativa di ricostruzione non invasiva della vertebra l'ha rimesso in piedi in due ore, ha ricominciato piano piano con fisioterapia a camminare e non ha mai smesso di pensare a ricominciare a correre. Un anno fa, pochi giorni prima della Maratona, della Cole Marathon, un nostro carissimo amico, da cui viene il nomignolo della camminata, Olarimba, fanese anche lui, malato di mieloma, purtroppo non ce l'ha fatta. Il mio fratello Terry era appena uscito dal primo trapianto e quindi ha voluto fortemente organizzare all'interno della Cole Marathon una camminata in ricordo di Olarimba. In tutto questo vogliamo ringraziare AIL che ci è stato molto vicino e quindi in tutti questi eventi stiamo raccogliendo soldi, contributi per l'AIL per stare vicino alle famiglie, ai malati. È una cosa grandiosa. L'AIL vive anche grazie a Terry e a Tania perché organizzano queste manifestazioni a raccogliere fondi per noi, che possiamo utilizzare per risparmiare un dolore, una fatica ai familiari e ai pazienti che soffrono di questa malattia tremenda. Il 25 aprile del 2017 ho corso l'ultima maratona e poi un mese dopo circa mi è stato diagnosticato il cancro. A distanza di due anni ci riprovo. Io penso che il fatto di essere un maratoneta, di conoscere il sacrificio e non arrendersi sicuramente mi ha aiutato tantissimo. Crederci sempre, mai arrendersi, guardare sempre avanti perché si esce, si esce dalle malattie. Quindi l'importante è credersi.